Equivale a distribuire generose dosi di coraggio, di tenacia e di perseveranza nel raggiungimento dei propri obiettivi. Ascoltarlo è un autentico privilegio soprattutto per i più giovani. È fondamentale riuscire a far passare a loro un messaggio un po' diverso da quello che sta passando sempre, cioè che i giovani non fanno niente per mettersi in moto, per i giovani non ci sono opportunità, per i giovani c'è disoccupazione. Insomma, questa è sicuramente una realtà, ma invece di stare sempre a pensare a questo problema, bisogna continuare a lavorare per fare in modo che invece le possibilità per i giovani ci siano. La prima cosa è che bisogna stimolare loro, cercare anche attraverso la metafora dello sport, come facciamo noi con Runstad e Bosch nel progetto Allenarsi per il Futuro, che è proprio rivolto ai ragazzi delle scuole superiori, cercare di fare capire come anche grandissimi sportivi hanno dovuto passare dei momenti molto difficili per arrivare ai grandi risultati che hanno raggiunto. Quindi cercare di fare capire a loro quanto sia importante eseguire le proprie passioni, quanto sia importante avere disciplina, quanto sia importante mettersi in gioco ogni giorno. Se loro si danno da fare, poi le opportunità ci sono.